Allora è scattata l'ora solare ben trovati noi oggi vogliamo portarvi in un lungo viaggio che attraversa il mondo ma che soprattutto arriva dritto al cuore ci sono viaggi che noi facciamo anche da fermi ci sono viaggi che possiamo fare dentro la sala di un cinema ci sono viaggi che ci portano a vedere il meglio di noi stessi dentro e fuori per noi è un grandissimo onore che sia arrivata in studio l'autrice di questo libro figlia dell'uomo tigre Gea Laconi che è saluta qui davanti a me sottotitolo ben arrivata grazie alla scoperta di un padre perduto e della corrente luminosa che unisce mondi lontani questo è un libro da amare da amare da leggere da posso dire anche un po da studiare perché si entra dentro le storie non è un film vita vera sì assolutamente vita vera allora perché potesse arrivare qui Gea Laconi beh tutto è stato frutto di un di un incontro di un incontro di puro purissimo amore tra Laconi che non è il cognome del tuo papà ma era il nome il nome di tuo padre papà e mamma si incontrano dove in Africa in Sudan proveniendo provenendo scusami da mondi opposti mia mamma da Firenze in Italia e mio padre da Sumatra un piccolo villaggio nell'isola di Sumatra che è una delle 18.000 isole dell'indonesia dell'arcipelago indonesiano 18.000 18.000 isole Sumatra è molto più grande dell'Italia poi ci sono anche isole minuscole disabitate però l'arcipelago indonesiano conta 18.000 isole Gea e tu in questo libro racconti di un incontro tra due anime giovani belle pure e libere la tua mamma che vede tuo papà e giustamente e torna anche questa tua questa descrizione più avanti vede un principe l'equivalente di un principe un uomo meraviglioso nel carattere e nell'aspetto esatto mia madre proveniva da un ambiente italiano degli anni diciamo anni a fine anni 70 dove lei respirava diciamo un ambiente molto borghese babbo lavora in banca mamma casalinga famiglia apparentemente perfetta però lei era una giovane che voleva rompere col sistema lei era una femminista andava alle proteste era proprio una combattente politicamente attiva e è scappata di casa lei cercava qualcos'altro lei voleva trovare un posto dove potesse vivere a stretto contatto con la natura allora a trovare questo posto negli anni 70 in in sudan è un viaggio lungo è un viaggio che porta però nel momento in cui questi due ragazzi si incontrano intanto fa scattare la scintilla dell'amore l'amore quello vero talmente vero che farà un giro lunghissimo ma gli amori grandi tornano sempre e poi una vita libera una vita una vita che che a quell'età chiunque di noi sognerebbe di fare come in un film ma non è un film e nel tuo racconto ecco leggendo questo libro non avrete mai la sensazione di leggere qualcosa di romanzato riesce a scriverne con la restando con i piedi ben piantati per terra la mamma ad un certo punto cosa che può accadere beve da una da un contenitore diciamo così sbagliato e prende il tifo esatto e quindi che cosa allora loro prendono loro erano diretti nell'isola verso l'isola del madagascar e perché volevano andare a vivere lì e c'era un'isola con un mare stupendo e con una comunità indonesiana abbastanza presente quindi per mio padre poteva essere l'ideale e però andando lì attraversano un fiume e mia madre non sa beve da un'anfora che trova lì prende questo tifo e le iniziano proprio delle delle febbre violente quindi inizia a sudare dimagrire vomito di arrea di tutto proprio però c'è un viaggio molto lungo da intraprendere quindi decidano poi alla fine li viene pure sbarrata la strada al confine e dice no qui non potete passare perché c'è un'epidemia di colera e quindi devono tornare indietro la mia mamma in quelle condizioni quasi non riusciva nemmeno c'è il giorno lei li venivano questi febbroni pazzeschi e non riuscivano più a tornare e ce l'hanno fatta invece a tornare sono riusciti sono lei riuscita a farsi trasformare il suo biglietto che aveva praticamente in due biglietti a breve tratta sono hanno fatto più del necessario di camminata sono arrivati al cairo e ha trasformato attraverso la compagnia aerea questo biglietto all'inizio non glielo volevano dare perché dice non può tornare in italia lui non è cittadino italiano però lei era super determinata e ce l'ha fatto ci sono problemi che ritornano come vedete e dunque sono una coppia bellissima tornano in italia ma come dire pur nella mera tutto il mondo vuole venire a vivere a firenze sia chiaro però 22 anime libere così anche libere nel senso che avevano avevano vissuto a stretto contatto con la natura sentono forse soprattutto la mamma sente la la gabbia no sì lei infatti torna nella sua città natale realtà dove è cresciuta ma lei non è mai appartenuta veramente il suo animo era così libero come dici te così aperto e dopo l'esperienza del del viaggio in africa lei non era più abituata a dormire proprio in case chiuse lei dormiva muro attorno sembra incredibile ma da così se uno prova a stare per un lungo periodo all'aperto a vedere a sentire intorno a sé altro che non sia la città e non sembra incredibile poi è come se si perdesse uno spirito di adattamento ma invece lo spirito che unisce questi due ragazzi è formidabile loro ripartono per l'indonesia ve lo raccontiamo tra un attimo e su una stuoia a terra contornata da amore cura sia chiaro arriva al mondo questa bambina questa bambina bellissima e da lì inizia il clou il grande della storia ci vediamo tra un attimo qui all'ora solare tenete il passaporto in mano se volete emozionarvi vivere la storia di una famiglia di una figlia di una figlia che sa raccontare così bene con tanta onestà e trasparenza la propria storia leggete questo libro di gea laconi edito da giunti figlia dell'uomo tigre arriveremo anche a questo alla scoperta di un padre perduto e della corrente luminosa che unisce mondi lontani ce l'abbiamo qui la protagonista grazie allora papà e mamma si sono sposati sono arrivati in indonesia tu sei nata guardate che trionfo di guance di bellezza tra le braccia del tuo papà e tu sei arrivata in questa casa piena di persone piena di in questa casa che tu descrivi anche se poi ripartiranno e ritorneranno indietro i tuoi genitori però una casa accogliente persone accoglienti mondi accoglienti che cosa accade dopo la tua nascita allora io nasco e dopo sei solo sei mesi in realtà dobbiamo tornare via però passato sei mesi in questo villaggio dove secondo me è avvenuto il mio imprinting perché sicuramente odori sapori infatti descrivo nel libro che mia mamma mangiava tanto cocco il proprio il frutto del cocco mangiava anche il riso bollito nel latte di cocco quindi poi me lo passava attraverso latte quindi io poi sono cresciuta una bambina che adoravo il cocco sempre cercato questo sapore anche in italia prima non si trovava tanto da noi negli anni 80 non era così facile poi invece dopo ora si trova tutto da tutte le parti del mondo si trova si trova si trova tutto l'abbraccio l'abbraccio di questo di questo papà meraviglioso il papà si chiama lakoni di nome perché tu spieghi non ci sono i cognomi ma sì in indonesia non esistono il cognomi ma praticamente un figlio quando nasce prende il nome del padre come cognome e poi li viene da il nome proprio che gli viene dato dalla famiglia però come cognome viene preso il nome del padre il nome proprio quindi è un modo anche no per aumentare ancora di più la memoria la presenza e tutto allora j.a.a. ha due anni e tutte le favole con questa non è una favola questa è una storia vera però conoscono un momento di crisi una volta ritornate voi ritornate i genitori voi tre si ritornate in italia e c'è la il momento della della frattura della separazione tra papà e mamma forse più voluta dalla mamma si che non dal papà e tu spieghi come l'atteggiamento la dolcezza di tuo padre che non era remissività quegli occhi buoni e non sto facendo in questo momento un papà buono ma non ci mancherebbe però fosse quasi presa per una insomma ad un certo punto venisse presa come un essere un po troppo remissivo mentre invece era probabilmente la più grande dedica d'amore la il tentativo di tranquillità che che tuo padre voleva voleva dare voleva offrire la propria famiglia esatto penso che i miei genitori abbiano proprio avuto un attrazione che penso sia una cosa anche insita in noi quando gli opposti si attraggano questa può essere proprio una parabola no che dedicata a tutti noi siamo attratti dall'opposto e come due calamite magnetica proprio e poi però quando gli appoi gli opposti stanno insieme non è sempre facile trovare una vera fusione anche quotidianamente no poi la vita quotidiana ti mette anche davanti alla diversità culturale cioè l'intercultura è una cosa difficile anche da praticare nella vita di tutti i giorni punti di vista diversi atteggiamenti diversi è difficile in una nazione è difficile l'inter con l'interculturalità tra regioni esatto ormai forse questa è una memoria lontana ma la si prova ovunque figurati tra due mondi separati e distinti tuo papà fa una scelta di amore puro cioè si trova un lavoro tu descrivi questa vita in una piccola stanza al fianco di un laboratorio di pasticceria dove lui finisce dopo che i miei genitori si separano perché in realtà io e mia madre rimaniamo a vivere a casa di mia nonna dei miei nonni e lui invece va a finire in questa piccola stanza una stanza in affitto dentro un appartamento stringe il cuore quando leggi questa pagina perché al lettore intendo dire perché un uomo che aveva il cielo sopra di sé no abituato certo ad altro però lui rimane rimane nettamente per amore tuo e per amore per amore di tua mamma certo solo per amore mio di mia madre non aveva altro qui in italia era proprio sradicato non c'erano indonesiani all'epoca la comunità indonesiana anche oggi è molto più piccola rispetto alla comunità indiana giapponese gli indonesiani non sono così viaggiatori mio babbo era abbastanza tipico oppure vanno in terre tipo l'olanda che era la colonia e quindi mio padre era solo aveva solo noi e per questo forse c'è stata anche questa fusione tra me e mio padre perché ci somigliavamo uno aveva l'altro e quindi c'era questo proprio questo legame allora provata ad immaginare quella forma che ha sempre un solo la puoi definire solo odiosa di razzismo no cioè del vedere l'altro che non è sceso da marte con tre nasi e quattro orecchie no è semplicemente una persona che ha un colore di pelle diverso che ha un tratto somatico diverso ma il tuo papà era anche sottoposto a qualche cattivo comportamento altrui no sì nel libro descrivo un episodio dove proprio sono stata testimone e ci sono state appunto era mio padre a un certo punto era così giù e triste che ogni tanto gli piaceva bere ma non era alcolizzato però ogni tanto beveva un bicchiere e mi ha portato lì con lui una sera siamo andati a un bar ingenuamente siamo stati lì e poi siamo usciti da questo bar per tornare a casa abbiamo proprio sentito delle urla nodi con degli insulti poi non si è presentato nessuno però nella mia mente di bambina erano come delle mostri nell'oscurità che poi non si sono concretizzati però mi hanno lasciato proprio una più che altro ero proprio dispiaciuta per questo mio babbo mi dispiaceva per lui perché doveva attraversare questa questa situazione e non potevo fare niente una bambina che in fondo non puoi fare avevo 5 6 anni mi sentivo molto impotente di fronte a questo è una memoria sto un'altra foto meravigliosa è una memoria della tua storia che trasferisci con con grande lucidità all'interno di questo libro grande onestà proprio il lettore è vero secondo me questo libro ha un po come due piani c'è un piano possiamo dire un po psicoanalitico nel senso di scavo interiore scavo dentro me stessa e questa voce di bambina in qualche modo è come se fosse il mio inconscio che parla e quindi è chiaro è lucido viene da dentro e è quello che è affiorato e poi c'è un lato che invece secondo me fa più omaggio alle mie radici che è il lato più magico dove in qualche modo lo scrivere evocare luoghi evocare persone profumi odori è come se avesse fatto rinascere qualcosa che non esisteva più è la corrente luminosa allora che cosa succede abbiamo parlato molto delle del papà questa è una foto meravigliosa con la mamma laura si chiama la la mamma di geia poi chiaramente doveva anche fare i conti con lo stare in classe a scuola e tu scrivi una cosa molto tenere c'è laconi sembrava un cognome italiana sardo quasi a volte mi dicono ma se metà sarda no e però anche lì c'era è assurdo ma c'erano spiegazioni da dare era un altro paese di anno in anno un paese migliora noi speriamo sempre che migliori forse bisognava spiegare perché tu avessi questi occhi meravigliosi spiegare ti era richiesto anche questo sì leggermente nel senso non ho mai avuto episodi di bullismo come si può intendere oggi erano semplici domande ingenue domande da parte dei compagni ma di dove sei perché gli occhi così perché i capelli così neri però sulla mia pelle li vivevo un po come come ok allora io non sono uguale a tutti ho un nome diverso ho un cognome diverso e c'è questo desiderio in fondo di tutti i bambini di omologarsi di essere uguale certamente dunque c'è il desiderio da parte di tutti tutti i bambini di omologarsi e poi ci sono i draghi i draghi che volano che fanno la grande differenza non a caso il fanta drago la musica dovrebbe arrivare never ending story della storia infinita aiuta un bambino c'è una principessa bambina ed è un film è un film bellissimo mi fermo al film chiaramente un film bellissimo per per j questo film ha una ed è bellissima anche questa cosa ha un valore aggiunto importantissimo perché allora questa musica davvero a me mi commuove perché è legata a questo film che io ho visto per ben sette volte insieme a mio padre durante le vacanze estive che noi passavamo a vittoria poana che è una località balneare vicino a forte dei marmi dove i miei nonni avevano una casa e mio padre affittava questa stanza dove in una pensione molto carina dove mi portava a fare le vacanze quando era ancora separata da mia madre e questa storia per me è come se trasportasse me e mio padre in questo universo meraviglioso dove non c'erano problemi dove esistevano draghi dove tutto era possibile c'erano le principesse io adoravo le principesse la danza classica le scarpette rosa e mi piacevano anche i giganti e in qualche modo noi eravamo trasportati in questa dimensione fantastica e per me era evadere no era trovare anche come la sublimazione di un amore e sa parlare la ragazza sa parlare sa scrivere sa sa allora j alaconi e quel quelle quelle sette volte al cinema lo so che forse i più giovani sorrideranno ma non c'era mica la possibilità di andare a vedere un film di rivedere un film se non staccando il biglietto un'altra volta e andando e tornando al cinema perché questo era no così era vedere il cinema che tanto ti porta dentro lo ripeto una storia dove un drago riesce a anzi un bambino grazie a un drago riesce a salvare un mondo di fantasia quindi dove la il nero più nero la paura tentava di mangiare tutto e questo tuo riavvicinamento a tuo papà questo super avvicinamento tuo papà questo stare insieme questo papà dolcissimo che ti portava in vacanza nella nella cittadina dove i nonni avevano la casa produce che ad un certo punto tu sei come dire fai in modo che la cerniera si riavvicina e si richiuda cioè papà e mamma si rincontrano no se dopo tanti anni di separazione che non avevano poi mai divorziato hanno deciso poi di riavvicinarsi e si sono rimessi insieme e questo non può che essere una storia infinita e stupenda allora perché figlia dell'uomo tigre allora figlia dell'uomo tigre perché mio padre era di poche parole non raccontava quasi come molti asiatici sono non era di parlare era più di stare in silenzio però quando parlava arrivava con queste storie meravigliose e una delle quali che è la più bella di tutte rende omaggio anche alle nostre origini è proprio la storia dell'uomo tigre mio padre mi racconta mi ha sempre raccontato che noi deriviamo dagli antenati l'uomo tigre vuol dire che i nostri antenati erano questi uomini che vivevano nel cuore della giungla quando ancora c'erano tante tigre tanti orangutans tante specie di animali esatto esatto e uomo e tigre camminavano praticamente fianco a fianco c'è stata come una fusione come un sangue che si mescolava insieme e questi uomini tigre sono i nostri antenati ogni ogni famiglia il villaggio ha un antenato animale noi abbiamo la tigre l'uomo tigre può aiutare il proprio discendente semmai una volta si trova in difficoltà e mio padre davvero si è trovato in questa situazione si è perso nella giungla quando era molto piccolo è stato quattro giorni in giungla da solo quindi dormiva arrampicandosi sugli alberi per evitare i predatori mangiava le poche cose che gli avevano insegnato erano commestibili poi non ce la faceva più allora si è ricordato della sua bisnonna che gli ha raccontato di questa storia e si è ricordato che doveva trovare un albero cavo battere tre volte sopra questo albero e l'uomo tigre sarebbe venuto in soccorso allora ha provato non è successo niente per molto tempo e poi gli è sembrato di vedere in fondo alla vegetazione una cosa bianca e gialla è nera che sembrava un serpente all'inizio invece poi era la coda di questa tigre che piano piano l'ha condotto fuori dalla giungla fino a limitare col villaggio signori e per questo che video questo libro sia tutto da leggere dunque è chiaro che forse forse il coraggio più grande il tuo papà l'abbia avuto quando era lontano da dal verde della giungla dove le code delle tigri non si vedevano ma lui ha saputo essere coraggioso molto e forte come una tigre e ha saputo portare avanti il la sua vita senza mai abbandonarvi stando sempre vicino a voi ingoiando anche tanti tante pietre e tanta amarezza ma restandovi accanto la nascita del tuo fratellino niccolò è un premio no a tutta questa è la coda della tigre che lo porta lo porta fuori eccolo qua il piccolino è che siamo nell'ordine del più piccolo in braccio alla mamma e voi ritornate nella vostra terra con niccolò ritornati in indonesia ritorniamo per una fortuna perché mio padre vinse proprio 10 milioni all'epoca di lire che ci permise proprio di comprare tutti i biglietti perché l'indonesia è lontana ci vogliono 20 ore da aereo è sopra l'australia quindi è lontanissima e con questi soldi che invece potevano essere investiti in altre cose abbiamo deciso di tornare di riaffrontare questo viaggio e tornare proprio a salutare tutti i nostri parenti che erano lì il papa fa una puntata sul cavallo vincente letteralmente proprio questo vi dico sempre un film vince quei soldi cosa ne puoi fare 10 milioni di lire erano tanti sono tanti no biglietti aerei e quindi siete ritornati in un mondo che tu hai riconosciuto oddio ripartita che eri piccolissimo quanto meno l'hai riconosciuto sulle sulla base dei racconti di tuo padre allora all'inizio avuto come uno shock perché ero è cresciuta molto fiorentina in fondo quindi anche in tutto ero un po schizzinosa che i banni non erano come i nostri ero schizzinosa del cibo però poi mi sono lasciata andare e ho proprio fatto affiorare questa tigre che era in me cercando il lato selvaggio poi è uscito fuori e mi sono divertita nella giungla abbiamo fatto una bella escursione insieme con i miei genitori alla ricerca dell'uomo tigre appunto e è stato molto importante allora poi c'è un c'è il il momento più più duro più difficile e eppure anche quello ha una sua arriva arriva e non impedisce a tuo papà a vostro papà di continuare a esservi comunque accanto perché papà sta viaggiando sul suo motorino arriva ad un incrocio e ha un incidente fatale lì ti è sembrato che si fosse bloccato tutto fosse sì finito tutto sì era un po come le morti violente così improvvise sono cose che ti fulminano no il giorno prima c'è e poi non c'è e mi è pesato molto anche il fatto che io crescendo quando i miei genitori erano separati lo avevo un po rifiutato questo padre perché in fondo era era diverso non l'avevo frequentato non parlava bene l'italiano mi era un po chiusa avevo io questo pregiudizio che in realtà lo soffrivo dagli altri semmai loro ce l'avessero e però poi era anche mio ho scoperto che era anche mio il pregiudizio e quando mio padre è morto io ero proprio invece pronta avevo superato quella cosa lì e ero pronta a riprendere il rapporto con lui a ricuscire quegli anni in cui eravamo stati lontani e invece il destino ha voluto che mio padre volasse via e quindi è come se in questa vita noi non ci non ci fossimo mai veramente incontrati ci davamo appuntamento e non era mai però il momento giusto e però questa morte in qualche modo non ha gravato su di me come senso di perdita ma invece mi ha fatto ampliare questo amore per mio padre come se slegato dal corpo fisico quest'amore poteva esistere e vibrare ancora più forte e libero si sei proprio una tigre allora e c'è un cerchio che si chiude e si chiude vuol dire che crea la perfezione perché folco terzani il figlio di tiziano terzani ci dovremo tutti alzare in piedi ma non lo facciamo ti incontra ad un evento dedicato al suo grande papà e che cosa succede succede domanda di cui io so già la risposta finta più che cosa succede come se non sapessi niente succede che di nuovo come nella storia dei miei genitori gli opposti si attraggono penso che c'è questa dinamica e io ho percepito fortemente lui non so come perché non lo conoscevo ma ho sentito proprio energeticamente che questo ragazzo era quello che ci voleva per me lui era nato a New York però cresciuto in Asia per metà fiorentino e io ero per metà fiorentina in parte asiatica cresciuta a Firenze sicché c'erano tante cose che ci legavano quanti giri del mondo avete già fatto diversi India California Indonesia se faccio due nomi Cosimo e Florian ti dicono qualcosa i miei due bimbi i miei due bimbi c'è un pezzo meraviglioso nel libro una pagina dove dice essere mamma è la cosa che mi ha mi ha mi ha completato guardate qua erano piccoli e qui erano piccoli e ho capito ma tanto rimarranno così per sempre nella testa nella mia memoria sì li sogno ancora mi mancano tanto ma erano 12 e 10 anni e sì ma le mamme li vedono sempre piccoli e tondi allora questo giro del mondo questo viaggio iniziato da uno sguardo che ha incrociato un altro sguardo nel Sudan tanti anni prima e poi il vostro sguardo tuo e di Folco Terzani che per fortuna si è incontrato ti porta a continuare a essere quella ragazza che i tuoi genitori forse avevano sognato che tu fossi libera indipendente innamorata in giro per il mondo è vero non ci avevo pensato ma è vero penso che sia penso che si torna allora ha detto oggi io ho presentato il libro a Firenze sono rimasta a dormire a Firenze perché dove abitiamo noi c'è tanta neve alta così quindi voi siete tra quelle persone sagge che vivono girando il mondo e conoscendo tutto in un posto lontano il più lontano possibile dalla grande città e questo è devo dire una scelta anche molto di folco perché lui è proprio un adoratore della natura e ha ragione infatti io sono molto felice che i nostri figli abbiano passato diversi anni della loro infanzia in questo paradiso perché la valle dell'orsigno è un paradiso dove possono dove possiamo tutti vivere le stagioni conoscere la neve conoscere gli animali abbiamo i lupi i cinghielli vedi cioè noi abbiamo una finestra è come un quadro che cambia sempre c'è la neve gli alberi grigi poi vedi la primavera e tutto diventa verde poi l'autunno diventa tutto rosso è come vedi com'è la vita la vita come dovrebbe essere mentre nelle città forse sei più protetto e sempre uguale magari vedi il cielo che cambia ma non ti rendi conto mettiti la maglia pesante la mamma no che dice ai bambini mettiti la maglia pesante oppure piove copriti e invece gira voce piccolini abbiano danzato sotto la pioggia per volere del papà ma evidentemente anche della mamma belli nudini proprio così cioè quindi bambini che sono abituati a non solo sono sempre andati scalzi anche se c'erano dei rovi o dei pruni e io li toglievo le spine però c'è anche il bello di questo la pianta del piede sensibile capisci bene dove mettere i piedi non non vai lì a piedi piatti c'è c'è anche una saggezza in questo io era anche un sono stata anche una mamma apprensiva nel senso mettiti la canottiera di lana se c'è una spina si toglie subito e in qualche modo io e folco ci ci siamo bilanciati lui porta all'avventura io li supervisiono un po signori è un libro meraviglioso sapete perché perché lei è già la coni ad essere proprio meravigliosa ci ha regalato la sua storia figlia dell'uomo tigre alla scoperta di un padre perduto e della corrente luminosa che unisce mondi lontani saggiamente editato da giunti bravi avete fatto bene grazie 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 di essere stata con noi applausi di cuore abbracci di cuore e quella quella perfetta rotondità che tu sei riuscita a realizzare per i tuoi genitori veramente grazie grazie a te noi andiamo a conoscere ora il racconto è affidato la nostra antonellina ferrara il racconto la storia di una donna molto speciale è stata molto speciale per tutta la sua vita teresina bruno classe 1929 settimo torinese prima camionista donna ma non solo camionista guardate mia mamma è stata la prima camionista italiana immediatamente dopo la guerra mio nonno faceva in piemontese si dice il faramio trasportava ferro serviva una un autista così mia mamma un paio di mesi tra la teoria la pratica ha preso questa patente la riteneva una cosa inusuale per quei tempi soprattutto e lo raccontava con orgoglio raccontava che quando si girava per settimo oppure entrava nel nelle fabbriche per fare questi trasporti ovviamente la guardavano con con simpatia con con attenzione con curiosità perché tra l'altro mia mamma non aveva un fisico bestiale era alta un metro e 45 quindi era era piccolina però ovviamente quello che gli mancava in in altezza ce l'aveva tutto in grinta a quei tempi le donne vestivano prettamente con con la gonna e quindi con la gonna aveva magari delle difficoltà a salire sul camion a spostarsi a muoversi e allora la nonna mia nonna dovuto adattare un paio di pantaloni del fratello maggiore ha dovuto adattarli e fare in modo che per lei diventassero una tuta da lavoro e questo è una situazione simpatica perché oltretutto oltre a vedere una donna camionista vedevano anche una donna vestita con dei pantaloni da uomo la sua giovinezza ha vissuto anche nel nel periodo dell'ultima guerra faceva la la staffetta ovvero sia portava notizie qualche volta da mangiare trasportava delle lettere di collegamento tra tra la montagna e la città purtroppo ci sono stati degli episodi anche non belli in cui lei raccontava delle situazioni dolorose ci troviamo a settimo torinese provincia di torino questa è una delle panchine realizzate per il progetto il sentiero delle donne è dedicata a una nostra concittadina è stata dipinta da una ragazza che sta frequentando il liceo artistico che si chiama leonora bonaffini ha deciso di raccontare teresina attraverso due elementi che hanno un po segnato la sua vita e cioè la strada e il cuore quindi la strada che percorreva durante i suoi trascorsi di staffetta partigiana ma anche la strada che a 21 anni ha cominciato a percorrere affiancando il papà che bella storia che bella storia brava grazie antonellina ferrara signore e signori ha quasi 12 anni però per il momento sono ancora 11 cittadina del mondo e grande splendida fotografa e caterina b ben arrivata con il nome molto molto italiano e tra un istante la porto in casa vostra è una ragazza stupenda ci fermiamo solo per un attimo il tempo di un click e arriviamo grazie è venuta a trovarci in studio e siamo estremamente orgogliosi di ciò la quasi dodicenne e caterina b viene da torino ha un dito rotto ma per per vicissitudine casalinghe insomma può succedere e che ha vinto il primo premio del prestigiosissimo concorso internazionale wildlife photographer of the year categoria giovanissimi con la fotografia che vi mostriamo una foto di due stambecchi la passione di e caterina è proprio la foto ma la fotografia caspita la fotografia che riprende la natura che fa della natura il centro il centro del mondo il centro dell'universo come 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 è nata questa passione è nata quando ero molto piccola durante il mio primo raggio in norvegia 11 anni sì ma ero molto piccola 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 perché la prima macchina fotografica l'avevo presa in mano a due anni e mezzo ma la prima foto importante che ho fatto è stata all'età di cinque anni e mezzo in norvegia in norvegia attuazione perché facciamo un attimo un quadro il tuo papà è un viaggiatore è un grande viaggiatore quindi tu di conseguenza nello zaino dei genitori ha imparato fin da piccola e i paesi del nord sono un po la tua sono un po il mio amore diciamo così meravigliosa allora papà fotografo naturalista laureato in biologia ha fatto fotografia gabbiani che mi dicono essere meravigliose tu anche papà a questa fotografia che ti porta questo primo premio così importante come sei arrivata sono arrivata molto molto tranquillamente diciamo diciamo così perché per me stare in natura è la cosa più bella quindi non è stato per me faticoso passare tante ore a ad aspettare gli animali no anzi è stato veramente veramente bello lo faccio molto spesso quindi allora e caterina ha questa già sintetizzato nella attenzione siamo di fronte ad una giovanissima professionista della fotografia e dell'amore per la natura ore 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 anche perché gli stambecchi stanno su due zampe in quella fotografia non è che siano rimasti lì in posa un tot per farsi fotografare cioè devi proprio riuscire a prendere quell'istante quell'attimo guardate queste immagini la nostra ormai è già nostra e caterina guardate grazie a tutti 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 insomma ma è una meraviglia questa queste questi video queste foto sono degli ultimi due anni tranne le prime che objection è la prima foto che abbiamo visto di quando ero piccola con mio papà in Norvegia su una barca. Sono tutte foto molto recenti. Quindi tu prendi, fai lo zaino, metti la tua macchina fotografica e viaggi insieme a papà. Sì, sì. Quanta difficoltà c'è nel vedere qualcosa... Prima c'erano quei delfini che vi seguivano così, no? E pensare di volerli solo guardare e invece sapere che in quel momento se fai lo scatto giusto li hai immortalati per sempre. Cioè come fai a fare quel salto? Io guardo tramite l'obiettivo, vedo tramite l'obiettivo, quindi vedo ciò che accade e me la godo pienamente, però me la godo ancora di più facendo delle foto, nel senso stare ferma a guardare gli animali è molto bello, ma è ancora più divertente fotografando. È meraviglioso! Qui qua ero molto piccola. Qui eri molto piccola, si vede anche... Questo è stato il mio primo viaggio, appunto in Norvegia. E devi da mangiare ai gabbiani. Sì, ero molto attratta dai gabbiani. Cioè il viaggio era stato fatto per andare a vedere le aquile, le aquile di mare, solo che io da piccola non ero minimamente attratta dalle aquile di mare, perché vedevo questa folata di gabbiani immense, ce ne saranno stati più di 50, e io ero molto attratta dai gabbiani. Che cos'è che rende bello guardare la natura così? Ti sembrerà una domanda, me lo dico da sola, abbastanza stupida, ma improvvisamente... Tu sei una ragazza del tuo tempo, vivi in una città. Però improvvisamente stacchi da tutto. Io non faccio fatica a staccare da tutto, faccio più fatica a stare in città. Infatti io da grande vorrei andare a vivere in Islanda o in Norvegia, in Finlandia, una casetta di legno nel bosco. Io me la porto a casa. Scusate, dichiaro il sequestro di persone. No, adesso il papà e la mamma mi fanno, mi intentano causa. No, ma sai che cos'hai anche? Sei simpatica. Grazie. C'è un'altra con un premio come il tuo. Guarda questa fotografia, l'hai scattata tu? Sì. Attenzione, non ho detto una cosa. Uh, me ne sono dimenticata. Il premio, quando è arrivata la notizia del premio, ne parlavamo prima, ma tu sei stata bravissima perché hai dovuto tenere... Il segreto. Il segreto. Nel senso, ci hanno detto giustamente di non dire a nessuno del premio per non rovinare la sorpresa agli spettatori e comunque per mantenere una parte, diciamo, un po' di suspense. Sì. Ed è stato molto difficile non dirlo ai miei amici, anche ai parenti, perché lo sapevano cinque persone. i nonni e i miei genitori. E basta. La quinta, eri tu. Sì. Poi la mia gatta, se vogliamo... La tua gatta. La sesta, la mia gatta, sì. Ma tu la fotografi, la tua gatta? È un po' figra, quindi non c'è molto da fotografare. Che caro! Guardatela, guardatela qui, con alle spalle la sua fotografia, bella come la luce, che riceve questo premio, che è un premio, lo ricordiamo, è un premio mondiale. Questo vuol dire che tu sei stata la più brava di tutti? Nella mia categoria, sì. Ed è la seconda volta che vinco questo premio. E questa qua è della categoria Under 10 Years. Yes. La prima volta... Cioè sotto i dieci anni. La prima volta sono stata l'onda a sei anni e mezzo. Con una cosa di gabbiani. Allora, attenzione, attenzione. Sono stati citati i nonni. E Caterina ha visto, se non va derata con tuo nonno, l'aurora boreale. Sì. E io ho detto, ah, l'aurora boreale, wow, wow. Però lei ha detto, ma tra fotografare gli animali e fotografare questo, questo, è più bello quasi fotografare gli animali. È molto più bello fotografare gli animali. Perché con... L'aurora è stata meravigliosa. È stata veramente stupenda. Poi è stato bellissimo con mio nonno che si è commosso quando l'ha vista. Abbiamo chiamato la nonna, l'amma che sono rimaste a Torino, a casa. Sì. Ed è stato bellissimo. È stato uno dei viaggi più belli che abbiamo mai fatto. Però per me è più divertente fotografare gli animali perché è molto più dinamico, è più interessante. Poi con gli animali mi sento più a casa. diciamo. Ma io... Ma dove l'hanno fatto? Ma no, ma sei un capolavoro. Grazie. Ma me lo fai l'autografo alla fine? Ma certo, ma anche 25. Yes. Senza problemi. Dopo vi sventolerò così al centesimo premio. Allora, Islanda, luogo del cuore, ma prima facciamo una sosta a Parigi. Perché tu sei... Ma come se lei vivesse sempre... Sì, ma questa è una renna. Sì, l'ho fatta... Ma il naso peluso. Sì, sì. Morbido. È bellissimo. È bellissimo. Purtroppo non puoi accarezzare il nasino. Io volevo dare un bacino proprio sul naso alla renna. Solo che purtroppo non si può fare perché c'è il rischio che ti immagino il naso mettere un bacino. Meglio di no. Il dito rotto a casa non se l'ho rotto viaggiando, girando. No, ha un peso a casa. A casa. Va bene. Allora, dicevamo, prima dell'Islanda, Parigi. Perché tu sei anche una... veramente una splendida ragazza. Grazie. E la grande Parigi che effetto ti ha fatto? È stato un viaggio molto, molto bello. Anche quello fatto con nonno. Con nonno e papà. Ed è stato un viaggio un po' inaspettato perché io ho espresso il desiderio di andare a Parigi e la stessa estate sono andata a Parigi. Mi hanno fatto questa meravigliosa sorpresa e sono andata a Parigi. E mi ricordo quando ho visto la Torifel mi sono commossa. Oh, tesoro, hai ragione. Ed era bellissima. Era bella. Era proprio bella. L'unica cosa che per me Parigi è una città un po' troppo grande perché a me piacciono le cittadine sperdute nella Norvegia, nell'Islanda. Ma che splendore che è, oddio. Allora, attenzione. Ovviamente il sogno è quello di girare il mondo tutto. Quindi tu sogni l'India. Non ho un posto preciso. Non ho una meta precisa. Viaggiare. 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 E torniamo al discorso. Le tue foto si possono ammirare anche le nonne che ci stanno seguendo che dicono sito. Ma io non ho il computer. I vostri nipoti sì. Quindi andateci. Sul sito Eka4Nature. Quindi, chiaramente. E tu hai questo nome così speciale. E Caterina B. Che sembra... Sembra studiato apposta. Invece è il tuo nome. Sì, sì, è il mio nome. È il tuo nome. Sicuro di non essere caduta da un libro di fiabe tu? Adesso mi stai facendo venire il dubbio. Quindi... Oh, è fantastico. È stupenda. Allora, questa è falconeria. Sì. Cosa che tu hai fatto, hai seguito, cosa che ti è piaciuta tantissimo? Sì, da quando sono molto piccola. e la passione è nata in un parco a Torino. Sì. E mi hanno fatto tenere l'aquila sul pugno, anche se ero un po' troppo piccola per l'attività, nel senso dovevo compiere ancora uno o due anni. Avevo due anni, però per fare l'attività ne dovevo compiere o tre o quattro. Ok. Ma ti hanno guardato negli occhi? E me l'hanno fatto fare prima, perché hanno visto che ero già un po' più grandicella rispetto agli altri bambini e hanno visto che ero molto rilassata, che ero molto tranquilla, che volevo farlo. Sì. E quindi me l'hanno fatto fare e da lì è nato un altro amore. È nato un altro grande amore. Quindi tu ti vedi in Islanda da grande, con passaporto timbrato, da cambiare più o meno ogni sette mesi, tanti timbri avrà, però in una casetta in Islanda... Sì, in una casetta in Islanda con la mia gattina. Come si chiama la tua gattina? Briciola. 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 La pigra briciola. La pigrissima briciola. Ho capito, ma tu gli fai dei paragoni però tra delfini che volano fuori dall'acqua, tra stambecchi che si alzano, tra renne col naso peloso, quella è un gatto, insomma, non è colpa sua. Eh, lo so, lo so, lo so. Non è colpa sua, però i dieci minuti in cui attiva la sera che viene a chiedere il cibo, le facevo le foto. Cioè, adesso non gliele faccio più, perché mi sto iniziando un po' ad annoiare di fare le foto alla mia gattina. Però quei dieci minuti in cui si attivava, gliele facevo. Caterina, ti chiedo un'ultima cosa. Sì, a parte qui mi è stata portata una macchina fotografica, ma questa scatta veramente? Devo aprirla? E come si apre? Aspetta, laterale? Non si sa. Dovebbe essere on. On. Caterina, ti è in sta macchina, fai tu, per favore. Ma che è? Non lo so. Allora, on. Di qua. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Eh, voi mi date macchine fotografiche che io non ho mai visto, io non so come... Allora, no, va bene, va bene. Scusate, no, però è carina, perché lei non l'ha mai vista, ma io proprio non sapevo neanche da che parte iniziare. Dammi, 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 così farò finta io di farti una fotografia. Posso chiederti una cosa? Sì, certo. Che mondo, per non calpestare il mondo che tu fotografi e che ami, che mondo dobbiamo lasciarvi, noi 50, 40, 50, 60 anni? Allora... Che obblighi abbiamo? Partiamo dal principio che la fotografia naturalistica è molto importante come strumento di conservazione della natura, anche se è solo uno dei tanti tasselli. Sì, sì. È davvero importante, quindi bisogna... cioè, non c'è tanto da fare, nel senso sono piccole azioni quotidiane che non costano nulla, ma che fanno tanto. Abbiamo l'obbligo, eh? Eh sì. Eh sì, perché sarebbe un peccato non far vedere alle generazioni del futuro quello che ho visto io e quello che spero di vedere ancora come hanno visto i miei genitori. E Caterina, io spero che tu vinca tutti i premi del mondo, che la vita sia un premio tutti i giorni per te, perché, credimi, è un'emozione grandissima averti incontrato. Grazie mille. Grazie a te. E Caterina B, questa non funziona, ma, insomma, la macchina fotografica la deve usare lei, non la devo usare io. Abbiate pazienza. Oddio, è caduta. Ma era vinta veramente? Era di qualcuno? Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti